Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video, in questo nuovo video vi spiego come risolve così questo problema riguardo a Contest Track 2 che non si avvia, quindi in questo caso è impossibile trovare il modulo specificato in Giant 2, quindi in questo caso per risolvere il problema è possibile che l'antivirus ti blocchi, cioè ti blocca proprio la cartella del gioco, quindi quando vai ad avviare il gioco può essere che l'antivirus cancella un paio di file e ti può uscire questo errore, ma non solo questo ma altri errori che si collegano così a Contest Track 2, quindi in questi due metodi ti spiego come risolvere il problema, quindi andiamo un attimo a chiudere questo problema, andiamo un attimo sul nostro Windows Defender qua sotto, Se sono da virus e minacce, andiamo su gestisci impostazioni, aggiungio rimuovili, esclusioni, facciamo sì, aggiungi così un'esclusione, facciamo cartella, vado sul volume e il mio disco dove tengo il gioco, vado nella libreria di Steam, Steam Maps, vado su common e vado a selezionare Contest Strike Global Offensive dove tengo anche Contest Strike 2 qua, quindi seleziono questa cartella, faccio selezionare la cartella e la inserisci qua, così facendo quando andrai ad avviare il gioco l'antivirus non farà nessuna verifica a questa cartella, ok? Chiudiamo qua e ora passiamo direttamente al secondo metodo, il secondo metodo è di andare direttamente su gestisci, quindi vai su gestisci, poi dai file locali, entriamo così nella cartella Game, andiamo su Bin, Win64, scendiamo fino a giù, fino a trovare il cs2.exe, mostra attribuzioni, proprietà, compatibilità, modifiche impostazioni di più elevati, questi tieni li attivi, sistema avanzato, esegui questo programma come amministratore e fai applica e fai ok, chiediamo un attimo qua, ora andiamo su impostazioni, gestisci, andiamo su proprietà qua, verifica l'integrità dei file del gioco e aspettiamo, 8 file non sono stati convalidati e verranno riscaricati, quindi ha ripristinato così i file nella cartella del gioco. Ora quello che ci resta da fare, chiudiamo un attimo questa schedina e mettiamo, chiamo su gioca, gioca contro il strike 2. Ed ecco che il gioco si è avviato. Quindi, grazie a tutti per questa visione, iscriviti, lascia like per altri problemi ancora, commenta sul video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao! Ciao!